Il nostro pianeta, l'unico vivibile al momento, seppure ce ne scordiamo, ha la febbre. L'esperto, il docente dell'Università, d'Annunzio nonché fisico dell'atmosfera Piero di Carlo, dice il caldo anomalo peggiorerà ogni anno con ripercussioni sull'ambiente per l'inquinamento. Non solo le temperature affose, infatti, sono fastidiosissime per l'uomo, ma ci sono effetti negativi che riguardano l'intero pianeta e l'ecosistema. Dipende molto anche dai nostri comportamenti, evitare il peggio, a parte la società, spiega il professor Di Carlo. C'è il problema dell'inquinamento, dovuto ad esempio anche a largo utilizzo dei condizionatori con temperature polari e relativo consumo di corrente elettrica. Purtroppo i dati ci dicono questo, le tendenze sono sempre a crescere nelle temperature, e quindi non riusciamo mai a vedere il raggiungimento di un plateau, cioè della temperatura che si stabilizza. Purtroppo ogni anno cresce sempre di più e ci ritroviamo, giustamente come diceva, qui a commentare situazioni sempre più purtroppo gravi per quanto riguarda l'aumento di temperatura. Ecco, aumento di temperatura che percepiamo noi come esseri umani, però ci sono tanti risvolti che ruotano attorno a questo caldo anomalo e affoso. Per esempio, condizionatori e inquinamento. Ovviamente il condizionatore è un elemento molto inquinante se l'energia viene prodotta non in maniera rinnovabile. Quindi se noi produciamo energia dal gas, dal petrolio, e quell'energia che utilizziamo per il condizionatore va ad inquinare ulteriormente l'ambiente. Quindi il consiglio che do io, che poi è quello che utilizzo io nella mia vita, è quello di utilizzare per esempio il ventilatore, che consuma molto meno. Secondo me, pure dal punto di vista, almeno per quanto mi riguarda fisico, io mi trovo molto meglio, non con queste temperature artiche, che secondo me fanno male alla salute e ovviamente fanno male al pianeta, perché significa consumare molta più energia e inquinare molto di più. Naturalmente c'è la problematica della siccità, ma anche altri effetti negativi per l'ambiente. Le ripercussioni sono tantissime, veramente a 360 gradi. Se pensiamo per esempio che l'atmosfera è a contatto con l'oceano, quindi il mare, il mare adriatico si sta scaldando, acqua più calda significa uno sconvolgimento dell'ossigeno, del pH, della salinità del mare. Quindi pesci autoctoni, che non trovano più l'habitat sostenibile qui, si devono spostare in zone più a nord e da noi arrivano pesci alieni da sud. Quindi c'è uno sconvolgimento per esempio per la fauna marina, per la fauna ovviamente terrestre, gli animali soffrono come soffriamo noi, la vegetazione, spostamenti verso le alte quote, della vegetazione tipica delle basse quote. È veramente uno sconvolgimento dal punto di vista ambientale a 360 gradi. Se pensiamo poi alla pandemia e alla guerra, si è rallentato il processo della transizione ecologica, che ha lo scopo di ridare linfa e salute alla nostra cara terra. Quindi nel sistema ovviamente di transizione verso le rinnovabili, di efficientamento degli edifici, di cercare di in qualche modo rendere il nostro pianeta più green, abbiamo avuto questi due fenomeni che hanno rallentato quello che era un discorso di transizione. Quindi ovviamente questo non sta facendo altro che peggiorare ulteriormente la situazione.